Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, è un episodio gravissimo e siamo stanchi di vedere queste terribili situazioni. A parlare è il presidente dell'Ordine dei Medici di Arezzo, Lorenzo Droandi, che interviene sul caso della dottoressa aggredita a Pisa. La donna è stata colpita violentemente con una mazza e una spranga nella zona dell'ospedale Santa Chiara, le sue condizioni sono critiche. Siamo vicini alla collega di Pisa, dice ancora Droandi, allo stesso tempo siamo preoccupati per questo triste fenomeno in crescita. Nell'ultimo anno in Toscana ci sono state 1.258 aggressioni fisiche e verbali nei confronti del personale sanitario. E adesso una vicenda di cronaca che si è conclusa in un modo davvero inconsueto. Sentiamo perché nel servizio di Chiara Sadotti. Una volta incastrato dai poliziotti gli avrebbe stretto la mano e si sarebbe complimentato con loro. Questa volta ho perso io, siete stati più bravi di me. Tutto era iniziato nel marzo 2022, quando un paziente del reparto di alisi dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi era stato derubato del portafoglio con contanti e varie carte di credito. La mala scoperta però non era stata fatta nell'immediatezza, quindi il ritardo nel blocco delle carte. Erano stati così prelevati oltre 6.000 euro in contanti ed addebitati circa 1.200 euro per l'acquisto di uno smartphone di ultima generazione. Dopo la denuncia, immediate le indagini coordinate dalla Procura di Arezzo della sezione anticrimine del commissariato di Montevarchi. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza, la consultazione dei tabulati telefonici e il report dei movimenti bancari, i poliziotti sono riusciti ad individuare il responsabile, un 32enne originario dell'Est Europa con numerosi precedenti penali. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata a Perugia, gli agenti hanno trovato il cellulare acquistato con le carte rubate ed altri elementi che lasciavano pochi dubbi sulle sue responsabilità. Per il 32enne è così scattata la denuncia per ricettazione. Due informatori farmaceutici sono stati denunciati dai carabinieri di Cortona. Le accuse sono di ricettazione e sostituzione di persona. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia del furto di un ricettario da parte di un medico che lavora in provincia di Arezzo. I due sono stati così pedinati dai carabinieri e sorpresi, mentre si trovavano proprio all'interno di una farmacia cercando di acquisire medicinali con le ricette rubate. Da qui la denuncia è il sequestro delle ricette. Una bella notizia per tutto il mondo dell'informazione. Questa mattina l'annuncio ufficiale che il Corriere di Arezzo tornerà con una sua sede in città, dunque nel centro di Arezzo, l'annuncio durante la cerimonia dell'Arettino dell'anno. Siccome abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza qua, proprio ad Arezzo città e nel territorio della provincia di Arezzo, posso dire che stiamo per riaprire una redazione, una redazione che sarà composta da giornalisti locali, da collaboratori e da corrispondenti. Una squadra che stiamo rafforzando in questi giorni e che fornirà un notiziario del territorio più capillare e più dettagliato. È stata la premiazione dell'Arettino dell'anno l'occasione per annunciare che il Corriere di Arezzo, storico quotidiano della città, tornerà con la sua sede ad Arezzo. Dopo mesi in cui i giornalisti aretini avevano dovuto lavorare dalla sede di Perugia, il cambio di proprietà ha dato la svolta. Il gruppo Corriere, di cui fa parte anche il Corriere di Arezzo, assieme al Corriere dell'Umbria, di Siena e della Maremma, è stato acquisito da pochi mesi dalla Polimedia SRL. Abbiamo scelto la sede, diremo successivamente dove siamo, cosa facciamo, perché stiamo sistemando alcune problematiche tecniche, ma è questione di poche settimane, forse pochi giorni. L'Arettino dell'anno, Renato Bircolotti, mossiere in tutti i pali italiani e starter in Ippodromo, è stato dunque premiato nella Sala Rosa del Comune di Arezzo, assieme alle seconde e al terzo classificato. Un momento di condivisione, di proclamazione di quella retinità che il giornale ha sempre raccontato e continuerà a raccontare. Vogliamo presentare un giornale che è aperto sia alla città sia al territorio. Io lo definisco un giornale che sia un po' un agorà, un agorà del territorio dove ci si conosce, ci si riconosce e si discute sui temi del giorno che riguardano Arezzo e l'Arettino. Questo lo stiamo facendo presentando già da qualche settimana un nuovo modello di giornale cartaceo, dove già dalle prime pagine c'è spazio ai temi del giorno e dove le cronache locali hanno la prevalenza. Ma il Corriere di Arezzo manterrà comunque sempre una finestra aperta anche su quello che accade fuori dal suo territorio perché è un quotidiano locale ma con vocazione nazionale. Fa parte di un gruppo che è il gruppo Corriere, che è un gruppo di più testate, di testate locali, ma è un gruppo editoriale di livello nazionale. Al secondo posto in Toscana per numero di piccoli comuni finanziati dalla regione c'è proprio la provincia di Arezzo con sei comuni che sono stati finanziati. Si tratta di Montemignaio, Chitignano, Talla, Castelfocognano, Lucignano e Sestino a cui vanno in totale 280 mila euro, 40 mila ciascuno proprio a Chitignano e Talla, 50 mila a tutti gli altri. E quanto prevede una delibera approvata proprio dalla giunta regionale, i fondi serviranno a cofinanziare fino ad un massimo dell'80% opere e interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcune strade pubbliche comunali. Nella giornata mondiale della terra interviene la presidente del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno che punta l'accento soprattutto sulla risorsa acqua. I consorzi toscani lavorano per mettere in sicurezza i territori dall'acqua ma lavorano anche per difendere l'acqua e quindi stoccare la risorsa quando piove e piove tanto peraltro costruendo anche invasi o piccoli bacini che peraltro abbassano il rischio idrogeologico e poi restituiscono quest'acqua nei lunghi periodi siccitosi per uso irriguo quindi al mondo agricolo. Quindi i consorzi sono impegnati nella progettazione di invasi ma anche di reti di distribuzione collettive per portare l'acqua alle imprese agricole. È nella giornata mondiale della terra che la presidente del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno, Serena Stefani, ribadisce l'importanza di curare l'acqua e con essa l'ambiente. Due i fronti su cui lavorare la prevenzione del rischio idraulico e l'utilizzo corretto dell'acqua privilegiando per gli scopi irrigui la raccolta e la distribuzione collettiva. I contratti di fiume sono uno straordinario strumento partecipativo che parte appunto dal basso, dalle comunità. Dobbiamo educare, educarci tutti a una corretta gestione della risorsa e lo dobbiamo fare fin da quando siamo dentro le mura delle nostre case quindi con una corretta gestione della risorsa anche quando ci laviamo denti o facciamo le lavatrici o le lavastoviglie. Quindi l'attività di manutenzione ordinaria dei nostri corsi d'acqua e di controllo e di vigilanza che i nostri tecnici effettuano lungo i nostri corsi d'acqua diventa veramente importante e strategico per una maggiore sicurezza dei nostri territori. Rimaniamo in tema di ambiente, chi semina raccoglie nella torre di Marciano quindi in Valdichiana un appuntamento sul tema del ripristino degli ecosistemi obiettivo prevenire, fermare e intervenire rispetto al degrado proprio degli ecosistemi in tutto il mondo. Un incontro sul ripristino degli ecosistemi una sfida che l'ONU riassume così prevenire, fermare e invertire il degrado chi semina raccoglie è il titolo dell'incontro organizzato dal comune di Marciano della Chiana in occasione della giornata della terra. Bisogna attenzionare costantemente che le persone si avvicinino sempre di più a tecniche di agricoltura che siano il più vicino possibile a quelle tecniche che in qualche modo inquinano meno la terra e quindi che tengano vivo l'ecosistema che è importante per tutti gli esseri viventi per cui bisogna fare in modo che come dire, tutti quanti vengono a conoscenza di tecniche che ancora oggi purtroppo non sono molto conosciute. Queste tecniche, parlo dell'agricoltura non solo l'agricoltura biologica ma anche l'agricoltura biodinamica l'agricoltura naturale quella che poi ci è stata insegnata a suo tempo dai nostri avi. Presente all'incontro anche un'azienda agricola del territorio coltivatore e custode di semi per la salvaguardia della biodiversità. Sono diventato un custode per la biodiversità dei semi di grani e non solo del cece per gentino, del quarantino di anghiari che è un mais ormai in via di estinzione e ritengo che sia un presupposto importante che ci riappropriamo dei nostri semi del territorio perché quelli fanno sì che non dobbiamo andare ad acquisire semi che siano geneticamente modificati. È partito oggi in Alto Valdarno ed esattamente presso le officine Capodarno Astia il corso per diventare pastori otto gli studenti davvero speciali che appunto intanto affronteranno delle lezioni teoriche di questa scuola per pastori e allevatori del progetto LIFE un progetto cofinanziato dall'Unione Europea il progetto ha come obiettivo il miglioramento dello stato di conservazione di alcuni habitat appunto ambientali come Praterie e Pascoli in alcuni siti toscani tra cui l'Alto Casentino sono otto i giovani che sono risultati diciamo così vincitori di una selezione partita con ben 167 candidati gli studenti saranno impegnati nei prossimi fine settimana come dicevamo con elezioni teoriche e poi lo stagio di 30 giorni proprio presso le aziende agricole del parco e dei suoi comuni Parliamo di Fiera Antiquaria perché si avvicina a un compleanno importante che sarà festeggiato con tre giorni quindi un'edizione straordinaria Tornafoto Antiquaria il 30 di aprile anche questa insomma una manifestazione storica che da poco è entrata diciamo nella gestione di Arezzo in turno Sì, Tornafoto Antiquaria il 30 aprile la prima delle due edizioni previste nell'anno è una manifestazione che potrebbe sembrare particolarmente di nicchia e in effetti lo è però è una manifestazione che comunque porta quel turismo interessato a questo tipo di evento in città e seppur piccola seppur non come la Fiera Antiquaria con 200 espositori ma quindi un numero molto inferiore diciamo che ha il suo bel perché all'interno del centro storico Ecco, organizzata da voi e in collaborazione con lo storico Fotoclub La Chimera che insomma cerca casa mi risulta Mi risulta anche a me risulta anche a me sì, la Foto Antiquaria la organizziamo noi come Arezzo in turno è una delle manifestazioni come dire dirette e vediamo di stiamo pensando anche di dare una sistemazione diversa a Foto Antiquaria per far sì che si possa anche sviluppare nel tempo perché ripeto è una manifestazione che ha successo ma è un successo evidentemente limitato a quelli che sono i numeri che porta vedremo nel tempo se riusciremo a trovargli una collocazione migliore Ecco, magari anche una fruizione più ampia di questi archivi che non solo il Fotoclub La Chimera ma insomma tutti i Fotoclub di Arezzo hanno è un patrimonio forse ancora appunto non dico sottostimato sicuramente sottutilizzato quello sì Sicuramente sottutilizzato sicuramente gli andrà trovata una sistemazione adeguata e poi come tutte le cose fin quando ci sono quei soggetti che portano avanti certe iniziative è molto più semplice venendo meno come dire il creatore originale di questo progetto le cose un po' si complicano ma vedremo di renderle meno complicati più semplici Il maestro Lorenzo Donati direttore e compositore a Rettino ormai attivo a Siena presso l'Accademia Chigiana e a Venezia presso il Conservatorio Benedetto Marcello è stato invitato l'unico italiano peraltro a tenere alcuni concerti e un seminario al Simposio Mondiale di Canto Corale che si terrà ad Istanbul dal 25 al 30 di aprile Donati come dicevamo è l'unico italiano al Simposio quest'ultimo si tiene una volta ogni tre anni in una capitale diversa l'invito mi onora dice Donati cercherò di tenere alta la qualità che l'Italia da sempre rappresenta in ambito musicale e corale avrò modo di dirigere in due concerti e di proporre anche ad Istanbul alcune mie musiche ci spostiamo adesso ad Anghiari perché in Valtiberina ha preso il via la 48esima mostra mercato dell'artigianato molto suggestivo ormai ormai noi siamo diversi anni e la facciamo è in uno dei borghi più belli d'Italia che da quasi 50 anni l'arte e l'artigianato si incontrano mi piace molto mi piace molto perché immagino che questa sia una bottega storica e quindi un po' ritornare anche con un taglio un po' più moderno da anche un senso di continuità Ad Anghiari è tornata la mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana la 48esima edizione in programma sino al prossimo primo maggio c'è ancora di più un connubio tra le nostre tradizioni ovviamente artigianali e artistiche in primo piano ma le bellezze culturali e architettoniche di questa splendida città ma non solo perché la denominazione è appunto allargata la Valtiberina quindi tutta la nostra zona che ovviamente è un punto anche ormai molto conosciuto per quello che riguarda le produzioni agroalimentari quelle della ristorazione e quindi un'accoglienza turistica a tutto tondo che valorizza questi splendidi posti 44 le botteghe aperte per l'occasione alle quali si sommano quelle permanenti per un totale di una cinquantina di espositori si va dal ferro al legno dalla pietra all'oro e preziosi per noi era la prima volta e siamo molto contenti perché inizia oggi ma c'è una bella aria una bella condivisione anche tra i vari artigiani e quindi siamo sicuri insomma che sarà una bellissima esperienza immaccabile poi un angolo dedicato al tombolo per noi sempre stato in auge nel senso che quando una cosa ti appassiona non si lascia mai noi qui abbiamo anche una scuola quindi mandiamo avanti la tradizione tra le novità di questa edizione la collaborazione con il comune di Gradara ed il pieno coinvolgimento del liceo artistico Giovagnoli abbiamo la possibilità di utilizzare il nostro istro d'arte di Anghiari la scuola d'arte come banca del tempo dunque quelle che sono i vecchi mestieri di proiettarli nel futuro ci sarà la possibilità da quest'estate di farla diventare anche un corso estivo laboratoriale per i tanti turisti che sono qui ad Anghiari dunque si coniuga la parte dell'artigianato con l'arte ma anche e soprattutto con la parte commerciale con la parte turistica perché l'elemento diciamo che di fatto mantiene vivo le nostre comunità e ci proietta nel futuro approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Cortona l'atto per il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Silvio Garattini è avvenuto nella seduta dello scorso 21 aprile docente universitario di farmacologia fondatore dell'istituto Mario Negri autore di numerose pubblicazioni scientifiche il professor Garattini è stato protagonista e organizzatore di attività culturali e di divulgazione scientifica che hanno dato lustro proprio alla città di Cortona per questo appunto la decisione della cittadinanza onoraria siamo allo sport partiamo dall'Arezzo indiani ha detto intanto onoriamo il campionato e sul fatto che insomma possa rimanere ad Arezzo o meno ovviamente pensando alla Serie C dobbiamo parlarne ha detto il mister Amaranto sentiamo la giornata straordinaria e chiara rimane nei ricordi di una vita sono quelle giornate però ecco una cosa particolare non voluta perché è venuta proprio per caso che sono andato solo dalla tribuna alla curva per caso perché non avevo programmato cercavo i miei e andando solo la ecco tutta la curva che ti chiamano è molto molto bello e anche dalla tribuna ha ricevuto un bel applauso visto che lei poi ha anche risposto a quell'applauso lì no è stato un caso sono rimasto solo perché alla fine della gara i ragazzi sono andati tutti là io cercavo mia tribuna non mi riuscivo a trovarli perché non sapevo dove erano e ci ho messo tanto tempo poi c'era i ragazzi di Sabili mi sono fermato un peno con loro poi cercando in tribuna è chiaro ero solo cercavo loro no no è stato tutto molto bello anche dalla parte della tribuna certo non volevo certamente dire la tribuna non tutto tutto molto bella domani si rigioca con che spirito e soprattutto con quale tipo di testa l'Arezzo torna in campo ho detto ripeto la giovedì abbiamo cercato di riattacare la spina o è giusto che sia o per rispetto di campionato per rispetto degli avversari per rispetto degli altre squadre che si stanno lottando per la retrocessione in questo caso con i Tau per rispetto di tutti per rispetto dei tifosi che mi diano anche domani verranno numerosi e nemmeno a alto faccio ma la sua a dove si gioca a Mazzano per rispetto per rispetto di loro per rispetto di tutto per rispetto di tutti dobbiamo cercare di fare la nostra bella gara lo stesso ma abbiamo fatto tutte le altre C'è Castiglia squalificato le chiedo se in queste ultime tre giornate però ha intenzione di dare magari un po' più di spazio a chi ne ha avuto meno nelle settimane scorse oppure no ma come giusto che sia perché come ho sempre detto cioè io ero dispiaciuto domenica scorsa e mi andò in tribunale a Duini perché il ragazzo si è allenato sempre in una maniera straordinaria ma come giusto che sia ma perché quelli hanno meno minutaggio per forza hanno più stimoli più voglia più dimostrare e avendo lo stesso loro con gli altri che hanno avuto più minutaggio la stessa stima da parte mia e chiedo anche una cosa sul futuro mister perché poi dopo la festa c'è stata la conferenza stampa del presidente del direttore e Giovannini ha detto il mister era un rinnovo automatico in caso di promozione non ci siamo mai separati dopo un anno se non a Lucca ma perché fallì la società e quindi credo e spero che non ci separeremo neanche stavolta lei che dice ma che devo dire devo dire ci dobbiamo incontrare perché contrattai tutto è chiaro il rinnovo è chiaro c'era in caso di promozione però così bisogna ricontrattare bisogna riparlare parleremo e poi decideremo e poi faremo sapere ecco una serie C qua le piacerebbe questo è in dubbio questo è fuori è in dubbio però sarebbe un bugiardo se ora vi dicessi che abbiamo già fatto io sono allenatore dell'Arezzo assolutamente no proseguono gli impegni per le squadre che partecipano al campionato Futsal Wisp ci dice tutto Marco Capulli si è celebrata in questa settimana la quinta giornata del torneo special Futsal il campionato di calcio a 5 organizzato dal comitato provinciale di Arezzo Wisp Sport per tutti dedicato agli atleti speciali insieme ai volontari e operatori delle associazioni delle strutture sanitarie che li seguono il mese prossimo si disputerà la fase finale che premierà una delle 5 squadre che in questi mesi si sono scontrate sul campo delle spala sport di Marciano della Chiana ovvero il Clà Electra e il Pionta di Arezzo l'associazione Arcadia di Terra Nuova Bracciolini il CAM di Teronto la Cortona e l'associazione Tallone di Achille di Bibiena la squadra valdarnese dell'Arcadia si è giudicata la giornata rispettivamente seconda e terza sono arrivate le due retine Electra e Pionta quarti i casentinesi del tallone Bacchile e quinto il CAM ed infine parliamo di basket perché domani si gioca l'ultima giornata del campionato di serie C Gold con l'Amen Scuola Basket Arezzo che ospiterà alle 18 lo Spezia Basket formazione che nello scorso weekend ha conquistato la promozione diretta in serie B un avversario dunque molto ostico per l'Amen che nella gara di andata si era imposto per 91 a 73 vedremo insomma come andrà a finire anche questa ultima gara che sarà come sempre seguita dalle telecamere di Arezzo TV per poi riproporverla nella nostra programmazione grazie per l'ascolto è tutto arrivederci a